Mary e Giovanni perché si sono lasciati? Parla Lidia del Grande Fratello Sulla fine della storia tra Mary Falconieri e Giovanni Angiolini parla l'ex concorrente del Grande Fratello, l'opinione di Lidia Vella. Lidia Vella è stata una concorrente del Grande Fratello proprio nello stesso anno in cui hanno partecipato al reality Mary e Giovanni. I due, conosciutisi all'interno della casa, avrebbero poi continuano la loro storia d'amore felicemente fuori. Oggi però Mary, tramite un post su social, ha annunciato la fine della storia tra lei e il suo fidanzato. Sul suo profilo Facebook molti messaggi d'affetto lasciati alla ragazza da parte dei suoi fan, i quali, a loro volta, si dicono dispiaciuti della cosa. . Adesso, tanto a quanto scritto dalla Falconieri, le strade dei due si sarebbero divise definitivamente. . Lidia si dice dispiaciuta ma, secondo lei, è probabile che sia stato proprio Giovanni a spingere Mary a lasciarlo. . Lidia Vella ha avuto modo di conoscere la coppia al Grande Fratello, per questo motivo oggi si è dispiaciuta quando ha letto la notizia riguardo la fine della loro storia. . Durante la trasmissione radiofonica non succederà più Lidia ha speso belle parole soprattutto per Mary, e una brava ragazza ha detto uscita dal Grande Fratello mi sono dovuta ricredere su di lei. . . Riguardo a Giovanni, invece, l'istinto di Lidia le dice che sia stato proprio il comportamento di quest'ultimo a far decidere alla Falconieri di lasciarla. . Mary e Giovanni, la fine di una storia. . . Fino ad ora l'unico a non esprimersi della coppia è stato Giovanni Angiolini che, sulla fine della relazione con Mary, non ha ancora detto scritto niente. . . Diversa invece la reazione di lei che, proprio stamattina, ha invitato i fan della coppia a chiudere tutte le pagine social a loro dedicate. . . .